A partire dal 10 febbraio 2019, le porte del cerebre MoMA, Museum of Modern Heart di New York, si apriranno per accogliere la Fiat 500, che sarà esposta per la mostra dal titolo The Value of Good Design, che racconta la storia del design industriale attraverso la raffinata collezione del museo. Il modello scelto è la 500 Serie F, la più famosa di sempre, prodotta tra il 1965 e il 1972. La celebre creazione di Dante Giacosa rappresenterà quindi non solo l'idea di mobilità made in Italy, ma sarà anche icona dell'arte e del design di tutti i tempi.